Rapina a mano armata questa mattina nell'ufficio postale della circonvallazione dei fiori di lama a Taranto. Due malviventi attorno alle 8.30 vestiti di nero con i volti nascosti dal casco integrale ed entrambi armati di pistola hanno fatto irruzione nei locali dove si trovavano alcune persone in attesa di riscuotere la pensione. Sotto la minaccia delle armi hanno costretti i presenti a uscire, ma hanno dovuto fronteggiare l'improvvisa reazione di un 81enne che ha bloccato la mano armata di uno dei due. Dopo essersi divincolato il rapinatore ha sparato anche un colpo che ha perforato la camicia dell'anziano signore che tuttavia ha continuato a resistere fino a quando non è stato sbattuto per terra. Nel frattempo il secondo rapinatore ha arraffato il denaro contante contenuto nelle casse e subito dopo i due sono fuggiti a bordo di una moto di grossa cilindrata del tipo Enduro. Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo mentre le poste stanno verificando l'ammontare della rapina.